Di nuovo in studio, continuiamo la puntata di oggi di Spunti e Spuntini, dedicandoci come spesso facciamo qui nella nostra trasmissione alla letteratura, diciamo che quasi una volta al giorno ne parliamo, quindi ci piace molto dedicarci a chi scrive, a chi spazia su tanti argomenti, in particolare oggi è venuta a trovarci la scrittrice Cinzia Dallaciana, a cui do il benvenuto qui all'interno del nostro studio. Salve Ilaria e buonasera a tutti gli ascoltatori. L'abbiamo invitata perché nel suo ultimo libro lei si è dedicata nuovamente, come ha fatto nello scorso anno, al teatro, quindi alla scrittura per il teatro. In questo caso ha riscoperto una storia antichissima, un personaggio davvero molto molto particolare. Il suo libro si chiama Mad 24. Cominciamo da qui perché già il titolo va spiegato. Sì, sembra quasi una formula chimica, anche se sotto al libro c'è scritto Tragedia moderna di una mistica del Seicento. Tutto nasce da un'altra donna che è Silvia Mantini, una docente di storia moderna dell'Università dell'Aquila, che ha scoperto nel fondo della biblioteca di Pescara un manoscritto. Un manoscritto che era stato lasciato nel Seicento da Apollonia 24, una mistica appunto che era in odore di eresia e alla quale il Sant'Uffizio estorse una sorta di autodiegesi, di biografia, proprio per ricavare le prove dell'eresia. Dallo studio di questo manoscritto poi è nato un saggio. Il saggio è arrivato dall'Aquila a una compositrice e dalla compositrice aquilana a me e mi sono subito innamorata di Apollonia, che era il nome secolare, ma che vede questa donna entrare poi in convento e assumere il nome di Maddalena. Maddalena che esce dal convento a 24 anni perché non accetta la clausura e vuole autodeterminarsi con la libera scelta di vivere la religione come fatto intimo e immediato con il suo sposo celeste, come lo chiama lei. Ecco, quindi una figura che davvero attorno alla quale è davvero molto importante poi costruire una narrazione e come lei ha fatto in questo libro. Sì, in questo libretto, diciamo, chiamiamolo così, perché poi essendo scritto come una tragedia e quindi avendo la vocazione di opera teatrale, che poi è anche musicata, è un vero e proprio libretto tecnicamente, insomma, oltre che piccolino e alla durata accattivante di poter essere comprato e letto. Quindi, se si vuole, una sorta di spettacolo per corcolarsi in proprio. Dicevo, questa donna ha una forza, un'energia che riesce ancora oggi a parlare a noi donne e io l'ho trovata particolarmente interessante perché ci si pone il problema quando si ha a che fare con le mistiche di quel secolo che sono anche in odore di eresia perché sono in quel linguaggio cosiddetto del quietismo, in cui c'è un annichilimento, un annientarsi per vivere la religiosità in prima persona direttamente, come, che ne so, Santa Teresa d'Avila, ma proprio come propaggini. Ecco, questa donna in realtà poi non diventa una santa, non diventa una religiosa, non vuole però nemmeno essere schiava di un potere familiare o di un potere ecclesiastico che le mette al Sicile e fonda lei stessa un conservatorio per le donne come il rifugio malmaritata, rimaste da sole, ma anche per poter fare preghiere, oratorio insieme, anche signore di una certa elevatura. Un personaggio estremamente moderno. Sì, moderno perché esce fuori da quelli che sono i canoni dell'epoca perché comunque una donna per poter avere cultura doveva entrare in convento e lei entra per poter prendersi quel tanto di cultura che le serve. Per essere poi indipendente. Quindi per essere indipendente è la fortuna che comunque viene da una famiglia di mercanti che le dà un agio economico che le consente di avere un palazzo a disposizione, quindi non dover dipendere da un potere ecclesiastico, da un potere di famiglia, di uomo a cui andare in dote, insomma, per potersi poi, per poter vivere liberamente. Quindi questa donna comincia a dar fastidio perché è una figura importante e viene messa sotto accusa. Non verrà scomunicata. Questo manoscritto è molto interessante, ma anche molto difficile e inquieta avere a che fare con delle personalità così contrastanti. Io ho trovato che il modo per poter far sì che il conflitto emergesse in modo ancora più eclatante fosse quello proprio di metterla a dialogo con una donna moderna. Una donna moderna che a confronto con un terapeuta fa sì che faccia riemergere le radici della propria inquietudine attraverso la parola di MAD, 24, MAD perché è una contrazione ma gioca anche sull'ambiguità ovviamente del vocabolo, con MAD e alla fine questa donna riuscirà a dare un messaggio del Seicento fino a noi. Certo, quindi allora non sveliamo troppo di questo testo perché è proprio anche da leggersi tutto d'un fiato. È molto bello anche la forma della tragedia classica. Anche questo è un espediente davvero molto azzeccato secondo me. Abbiamo davvero pochissimi secondi prima di dover chiudere questo spazio. Io chiedo a Cenzia Dallaciana che effetto farà avere il proprio libro poi al Salone del Libro di Torino tra pochi giorni. Sì, il libro è già in partenza, diciamo, è già imballato per arrivare al Salone di Torino dove sarà esposto nello stand della regionale Toscana a Liberi Toscana e poi avrà il suo battesimo vero e proprio con una presentazione il 23 maggio in Sala Indaco alle ore 15. L'effetto è quello di continuare a portare i propri figli, questo è il nono, che si è partoriti a spasso perché poi dopo prendono le loro gambe e prendono il loro cammino. Bene, allora davvero tanti complimenti anche per questa nuova avventura letteraria a Cenzia Dallaciana. Grazie per essere stata qui con noi a Spunti e Spuntini. Grazie Laria e comunque sulla zona abbiamo già dato in programma per poterlo non solo presentare ma anche per formare. Vi aspetto. Certo, grazie ancora Cenzia Dallaciana, noi ci prendiamo qualche istante di pausa, tornate ancora tra pochissimo con Spunti e Spuntini, la puntata di oggi continua.